Crab dance, il ballo dei grandi, la danza che cambierà la vostra vita. Dopo questa lezione ballerete come dei veri grandi. Molto bene, abbiamo imparato la prima parte, i primi due otto, e l'abbiamo ballata. Abbiamo imparato la seconda parte, i primi due otto, e abbiamo ballato con la musica. Ora si tratta di legare tutto assieme e ballare. Facciamo un veloce ripasso senza la musica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Michael Jackson, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molto bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4